La Procura di Trani chiude le indagini sull'inchiesta penale che vede coinvolti il comandante della Polizia Municipale di Trani, Antonio Modugno, e l'ex dirigente delle finanze, Domenico Guidotti. L'inchiesta, condotta dal sostituto procuratore Giuseppe Maralfa, riguarda i presunti illeciti che sarebbero stati compiuti nell'ambito dell'appalto dei lavori di manutenzione dei locali a piano terra del comune per la realizzazione degli uffici della sezione Interforze di Polizia Giudiziaria. Modugno e Guidotti, entrambi in qualità di ex dirigenti della terza ripartizione, sono accusati di concorso in abuso di ufficio e falso ideologico. I fatti risalgono lo scorso anno e l'indagine parte da una denuncia del senatore di Forza Trani, Roberto Visibelli, scoparso un po' di tempo fa e riguarda la determina 122 del marzo 2012, che affidava i lavori di manutenzione dei locali da adibirsi ad uffici della sezione di Polizia Interforze alla di Gregorio SNC. Secondo il PM Maralfa, quei lavori da 160.000 euro sono stati aggiudicati senza una gara pubblica e senza un indirizzo della giunta comunale, quindi, pur non avendo competenza, i due dirigenti avrebbero procurato intenzionalmente un ingiusto profitto patrimoniale alla società tranese prima citata. I dirigenti, per giustificare il ricorso ad una procedura ristretta e motivare la delibera, avrebbero fatto riferimento ad una situazione di urgenza, insussistente per il PM Maralfa, che ha deciso di non chiedere l'archiviazione dell'inchiesta, ma di notificare ai due dirigenti l'avviso di chiusura delle indagini. Modugno e Guidotti hanno tempo per presentare al PM documenti o chiedere un'integrazione di indagini, dopodiché spetterà la procura valutare se formulare o meno la richiesta di rinvio a giudizio.